Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio dell'atterro per un'ora in Ranked per atterrare i templi della collaborazione con Avatar. Siamo vicinissimi all'elite, quindi non posso nascondermi dietro un dito, l'obiettivo è quello. Ci sono diversi templi in giro per la mappa, io intendo solo quelli dove ci sono i vari NPC dei protagonisti, diciamo, di Avatar, quindi solo in quei quattro dove ci sono loro effettivamente. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYX, tutto grande e tutto attaccato nei cosoggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzola, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYX, tutto grande e tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo proprio come era successo a me adesso. Mi raccomando raga, è fondamentale per supportarmi, grazie a chi lo farà, grazie, grazie, grazie. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare gli Atterro per un'ora e fatemi sapere nei commenti dove farlo nel prossimo episodio. Andiamo a mettere pronto, andiamo a far partire il nostro cronometro e vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ok ragazzi, ogni tanto torna, ogni tanto torna questo bug del bus, ogni tanto torna. Allora, dove ce ne vogliamo andare per la prima partita? O meglio, da chi ce ne vogliamo andare? Andiamo da Heng, facciamo subito una bella partita col potere dell'aria, anche perché mi sembra un attimino quello più utile tra i quattro per le mie ranked. Perché quello dell'acqua laser, di sicuro lo so usare meglio che i fucile d'assalto che ci sono in questa stagione. Quello del fuoco, non ne parliamo, mentre quello della roccia può essere utile per one-shotare le build, l'abbiamo già visto, replessare ed entrare nei box, ma è una cosa che io non riesco a fare. Ovviamente ragazzi, non ho l'obbligo di utilizzare i poteri, la difficoltà sta nel fatto che devo atterrare qui per lutare e non c'è mai niente in questi fantastici templi. È un po' quello il problema, ecco. L'ho specificato a chi non fosse chiara la challenge. Allora, solitamente quando devo fare queste challenge, in pubblica mi regolo e mi do un piano, tra virgolette. Cerco di capire dove andare a lutare dopo, cerco di capire cosa mi conviene fare, eccetera, eccetera. Oggi, che lo devo fare in ranked e che quindi è decisamente più importante rispetto al solito, non mi sono preparato nulla. Oh no, raga, c'è qualcuno qua, mi sa. Mi sa che c'è... Di sicuro hanno lutato. Di sicuro hanno lutato... Eh, no, no, sì, 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 sta ancora qua. Abba ogni attimo. Furiamoci, o meglio, fulliamoci lo shield, perché se questo poi ce puscia subito... Ah, se ne sta andando però, eh? Che si ha messo male? Che si ha messo male, ragazzi? Che si ha messo male, signori? No, dai, ma... Ma come? Sì, vabbè. Vabbè, è immortale il bro. Madonna, che brutto fight. C'ho l'ultimo colpo in canna. Ok, mamma mia. No, non lo ricarico nemmeno, perché c'era quest'altro. No, ovviamente il DMR adesso lo lasciamo, eh. E infatti, raga, abbiamo fatto bene a pusharlo perché era messo male. Non so se però era messo male perché ha lutato male di qua, eh. Mo' vediamo bene. Comunque che brutto fai dare così tra le montagne, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, qua c'è la cesta leggendaria di qualcuno che ha utilizzato le varie sfide delle ombre, di quella roba lì. No, non so neanche se siano ancora le sfide delle ombre, tra l'altro. Faccio così e così. Solo che mo' questo qua ovviamente sa dove sono, perché teoricamente ti segna quando qualcuno ti ruba le ceste. Come gli airdrop, ecco. Come quando chiamano gli airdrop. Ah sì, comunque non vi voglio far sapere come ho perso lo shield di prima. Ma potrebbe centrare la granata, quella elettromagnetica, diciamo. Ok, raga, mi hanno provato a cecchinare dopo un'intera partita dove, cioè, nel senso, non è che sto qua a camperare. Voglio dire, mi sto anche muovendo abbastanza, però non stavo trovando nessuno. Ok, potrebbe essere la mia taglia. Ho fatto una granca volata. Ho fatto una granca... Non ci credo. No, era il mio. No, non la posso usare. Non ci posso credere, ragazzi. Sempre così. Sempre così. Questo c'aveva pure il cecco che me lo volevo prendere. Magari c'aveva pure le cure per curarmi. Invece niente. Arriva sempre il terzo incomodo. Ultimamente sta aumentando un po' di più qua la situazione, da sto punto di vista. C'è qualcosa qua, raga. Mi tocca lutare nelle zone dove sono stati killati altri player. Magari non ho lasciato qualcosa di buono col cavolo. Situazione a dir poco disastrosa, ragazzi. Ma, raga, c'è qualcuno qua sotto. Con qualcuno che lo sta puntando qua sopra. Attenzione. Ah, questo c'ha l'NPC. Mamma mia, se avessi avuto un cecco. Se avessi avuto un cecco questo... Eh, vabbè. Mi stanno sparando anche da di là. Ok, allora mi sa che... Perfetto. Anche il caso... No! No, no, no. Aprimi la mappa normale. Andiamocene verso di qua, va? Andiamocene verso di qua che almeno entriamo in safe. Anche perché tanto, raga, siamo già in otto. Quindi non è che dici, sai, ti metti a pushare e fai le kill. Ok, il bro mi sa che mi sta continuando a puntare, eh. O comunque qualcuno da molto lontano ha riprovato a sparare. Ok, planano. Non so se sta planando verso di me. Forse sì, sai? Mi sa che mi sta puntata prima questo. Perché è proprio quello che avevo visto che stava planando e che stava andando verso l'altro. Mamma mia, sa che invece stava andando verso di me. Oh mio Dio, che pizza. Non ce voleva sta hit. Anche perché le bacche le volevo utilizzare col potere dell'aria per muovermi. Però vabbè, una me la mangio. Ah, 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 mi sta proprio pushando. No, no, raga, è inutile che scappa. Mi sta proprio pushando col potere dell'aria. Quindi è proprio inutile scappare. E invece mi sa che si era fermato. Eh, mi dovevo stare fermo, mi sa, eh. Mi sa che mi dovevo stare fermo. Vabbè, facciamo un giro strano, dai. Facciamo un giro molto strano. Eccolo, pure lui. Stanno risparando di nuovo in cielo. C'è quello lì che sta... E fisso spara in cielo. E quest'altro invece provava a sparare a me. Va bene, macello. Il problema è che sparano tutti da lontano. Questa cosa non mi piace. Ragazzi, c'è uno... No, non la volevo usare. Oh mio Dio, ragazzi. Ti dash del cerbero ogni tanto. Li fai ma non li vuoi fare. Eh, sei tipo di nuovo, va bene. Stavo per dire che comunque c'è qualcuno lì. E devo stare molto attento. Io volevo andare verso la zona morta della tempesta. Ovvero verso di qua. Dove prima c'era appunto la tempesta. Invece adesso diventa safe. Dunque io sto ancora rosicando per il cecchino di prima, ragazzi. Allora, fermi tutti perché questo mi dà la sensazione di aver puntato il sottoscritto. Che partita strana, ragazzi. Che partita veramente strana. No, raga. Mi devo muovere verso di là. Va bene. Ok. Va bene. Io non so se lui adesso... Ah, proprio così col cecco ci hai provato? Proprio così col cecco ci hai provato tu, bro. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. Oddio mio, raga. Mi ha cecchinato mentre usavo il potere dell'aria, ragazzi. Quell'altro. Mi ha cecchinato mentre usavo il potere dell'aria. Notevole. Davvero notevole. Questo non mi lascerà mai andare. Ah, che bello. Il bro continua a sparare a me nonostante gli stiano palesemente sparando dall'altro lato. Ma va bene. Allora, facciamo così, va? Ok. No, no, dai! Ma sono veramente un pollo, sono! Mi sono piccato per curarmi! E poi mi faccio laserare così. Ma dai, su, ma sei veramente un pollo incredibile! Tu però hai rotto veramente le scatole, eh? Tu hai davvero rotto le scatole. Ma nessuno gli spara! Cioè, se io mi mettessi a fare una cosa del genere, come sta a fare lui con me, mi sparerebbe tutta la lobby. Mi sparerebbe. Altro che... Ok. La safe ce l'ho tipo dietro, diciamo. Allora, diciamo che mi muovo in me... Ah! Come cacchio? Ho ovviamente miscliccato. Però per fortuna non ho sprecato lo scildone. Questa è stata una fortuna allucinante, ragazzi. Devevi trovare sto loot qui così. Questa è stata una fortuna incredibile che a breve dovrò ovviamente pagare. Cioè, mica... Mica a me mi viene una fortuna del genere a caso. Non volevo assolutamente fare questa arrampicata. La banana però sì. Perfetto, raga. Alla fine mi sono rimesso in carreggiata. Non so come. Ho uno scildone. Ho le banane. Ho il movement, anche se in endgame non so quanto sia utile. Ho le... Armi montate male perché le modifiche non mi piacciono, quelle del pump soprattutto. Ma alla fine, in un modo o nell'altro, ce la stiamo cavando molto stranamente. Allora no. Prima copriamoci un attino così. Ah, che poi dovremmo essere in safe, eh? Dovremmo essere in safe, in realtà. Eh, madonna, ragazzi. Però, madonna. E come ci arrivo io adesso? Devo... Devo per forza usare il potere, ma... Potere e mecelase erano di brutto. Mecelase. Questo dove sta sopra o... No, sta sotto. Dove sta sotto. C'è altra gente lì a cui stanno già sparando di brutto. Eh, raga. Eh, mi tocca. Che devo fare? Oh. Ma raga, con gli edit oggi non ce la facciamo, eh? Oggi con gli edit assolutamente no. Ma che cos'era? Ma che cos'era? Perché mi ha fatto così? Ma che era sto contraccolpo? Raga, mi ha fatto un salto che non volevo fare. Oh, mio Dio. Ha tipo preso, non lo so, il volo. Oh, mio Dio. Ma ha proprio chiuso sto maledetto. Panze può buildà. Ok. Io sto buildando malissimo. Ah, devo dire che il gioco mi sta andando un pochino a scatti, eh? Non è che voglio trarre la scusa perché sarei dovuto morire mezz'ora fa e mi sta dicendo anche troppo bene. Cioè, troppo bene mi sta dicendo. Ma non vorrei che si... Raga, io vi giuro non l'ho cliccato il tasto per editare. Oh, non lo so, ora. Ovviamente neanche questa cosa volevo fare, ci mancherebbe altro. Io... Io sto... Penso che il gioco con l'endgame al mondo sotterraneo stia impazzendo. Secondo me è il gioco che sta laggando a schifo perché siamo al mondo sotterraneo e tutti stanno continuando a dashare. Ve lo dico io. È per questo che mi sta andando tutto a scatti. È per questo che mi sta andando tutto a scatti. Altro che... Guarda, guarda, guarda. Guarda che manco un salto riesce a fare. Ok. Ma voglio arrampicarmi, non voglio usare il dash. Oddio. Ho tutto carico? Sì. Allora, regà, adesso facciamo... Una cosa molto tranquilla. Ah, ma tu proprio così stai giocando. Cioè, tu proprio così. Cioè, tu... Eh, raga. Ma ho giocato malissimo. Ma ho giocato malissimo. Tutto l'endgame io sarei dovuto morire... Un quarto d'ora fa sarei dovuto morire, ragazzi. Comunque, ragazzi, le due kill che abbiamo fatto... Le abbiamo fatte a gente che sta in Elite. Siamo comunque arrivati in endgame... E quindi l'Elite ce lo siamo preso. Iniziamo a fare i stick and play in Elite. E vediamo che succede. Allora, proverò a prendere appunto il potere dell'acqua... Il dominio dell'acqua da Akhtara... Che sta appunto qua verso sud di Gran Ghiacciaio. Però non so se me lo terrò proprio il potere. Eh, per ora me lo tengo. Il dominio me lo tengo. Ma non so per quanto ci giocherò. Comunque, regà, la partita prima è stata davvero brutta, brutta, brutta. L'endgame è davvero bruttissimo. Siamo stati fortunatissimi in alcune situazioni. Ma per il resto, male, male. Però, regà, veramente io ho il... Ma forse la certezza che comunque il gioco stesse laggando per via di tutti quei dash che tutti stavano potendo fare perché stavamo al mondo sotterraneo. Comunque io non ho capito per quale motivo i templi non abbiano messo un minimo di loot. Cioè, letteralmente, i templi hanno o qualche barilotto... Oh, vabbè, il potere... E basta. Ah, raga, però qua siamo vicini al punto... Eh, qua... Eh... Ma sul serio stai atterrando al templio? Non c'è letteralmente nulla! Ah, vabbè, ok. Eh, vabbè, così mi killa, eh. Tanto sicuramente mi ucciderà brutalmente. Perché lui avrà le armi, io ci avrò soltanto il potere. E lui sarà già full perché sta al coso. Tu che vendevi, però? Ah, vabbè, sinceramente... Sinceramente non mi interessa. Però me ne devo andare di qua, ragazzi. Peccato perché qui sarebbe stato veramente tanta roba a lootare. Però non ce lo possiamo permettere attualmente. Cioè, non puscio quelli là con il potere dell'acqua. Ah, qui la grotta dovrebbe essere ancora aperta, vè? Sì? Non ha lootato nessuno? Ok, non se la sta affilando più nessuno sta grotta, vè? Alla fine, raga, ma è standard delusso sta partita, eh. Cioè, potermi lootare tutta la grotta... Certo, adesso rischiamo di rimanere qua perché qualcuno potrebbe arrivare. Però io tanto fuori sto sentindo amarete e spari quindi probabilmente se stanno a sparare fra di loro e basta. Ma, ragazzi, ma come gli ignomi bloccati dai rami qua dai coralli? Che cosa vuol dire? Gli ignomi hanno sempre qualcosa a che fare con la trama di Fortnite, eh? Per esempio, se non ricordo male, nel capitolo 2 o nel capitolo 3 alla fine ci fu una teoria che ci sarebbe stato il cambio capitolo perché praticamente tutti gli ignomi della mappa si stavano radunando all'esterno della mappa e stavano tutti con le navi pronti a partire proprio come a far capire che se ne stavano andando. Però tante altre cose si possono raccontare anche sui coralli in realtà. Chissà che vuol dire. Spero lo spieghino prima o poi, ma tanto qua la trama sembra essere messa da parte. Siamo usciti sani e salvi. Per ora pare di sì. Solo che dobbiamo risalire, anche se però ci ha detto bene con la safe che siamo appunto in safe. No, raga? C'è uno qua? Ma perché non l'ho laserato con il potere dell'acqua? Perché ho la mitraglietta in mano e non ho voluto aspettare. Brutta situazione perché ovviamente deve sempre arrivare al terzo a rompere scatole. No, non pensavo mi facesse... No, se gli facevo la doppia hit con il pump l'avevo killato. Non pensavo mi editasse la finestrella a tu per tu. Pensavo mi editasse quella al centro perché a lui conveniva in realtà editare quella al centro piuttosto che quella davanti a me. E poi se tiravo due hit col pump invece di switchare sulla mitraglietta mi sa che me lo killavo io, eh. Allora, quello più difficile tra tutti però ragazzi dovrebbe essere quello qui della terra. Lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso, va? Il problema di qua ragazzi è poi dove andare a lutare. Cioè... Qua davvero bisogna arrampicarsi sugli specchi. E là c'è un'arma... Allora faccio una cosa ragazzi. Se no è troppo rischioso. Ad atterrare sono atterrato lì. Però mi prendo subito quest'arma e luto prima qua. Prima di prendere il potere o fare qualsiasi altra cosa qui al templio. Perché se no ragazzi rischiavo veramente di morire se qualcuno atterrava qua all'isola con me. No raga, non avevo visto gli scildini. Cioè praticamente mi fullavo ragazzi. Mi fullavo. Non ce credo. Ah, ce sta quello lì. Che io non credo sia messo troppo bene. Ma quell'ama? Ah, è caduto adesso. Mamma mia che hit. Ma raga, gli ho fatto 85 bianco. Gli ho fatto 85 bianco ma non era white. Cioè se no non pushavo così con la mitraglietta a caso. Pensavo fosse veramente con 15 di vita. Poi tra l'altro stavo nuotando quindi non ho neanche nuotato se mi ha fatto la... Diciamo l'animazione di quando rompi lo shield. Madonna mia raga. Eh vabbè. No, ma c'è l'effetto della banana raga. Ha jumpato altissimo e non me l'aspettavo. Eh raga, non me l'aspettavo. Cioè ho iniziato a buildare non me lo sarei mai immaginato di ritrovarmelo sulla capoccia. E invece c'aveva l'abilità della banana. Oh comunque ragazzi io non riesco... Io lo so che ogni volta sono una radio rotta e ripeto sempre la stessa cosa. Ma non riesco a farmi un fight che sia uno o una kill che sia una senza che poi non arrivi un terzo a rompermi le scatole. È incredibile. È davvero incredibile sta cosa. Eh raga, mi manca solo qui Zuko e quello che usa il dominio del fuoco. Quindi andiamo da lui. Mancano praticamente una ventina di minuti quindi diciamo che se riesco a farmi un buon game potrebbe essere l'ultimo ma dubito. Ah raga, oddio un'arma qui al templo incredibile la prima volta mi capita. Allora quello del fuoco per adesso lo prendo ma sappiate che lo dropperò tipo appena arrivo a cinque oggetti nell'inventario. Cioè veramente ragazzi questo non riesco proprio ad usarlo. Non lo so non mi piace proprio. Oddio no spero non stiano sparando qui perché ci voglio andare a lutare. No raga c'è uno eh raga ma io c'ho solo c'è nel senso l'IMR sto pump che non è che stiamo parlando di il mio loot preferito ecco diciamo così eh bene benissimo devo dire facciamo tipo così ma la situazione è molto più tragica di quello che sembra ah ok se ne sta andando con la macchina è venuto a rubarmi una macchina e se ne è andato va bene bro in realtà meglio così eh molto meglio così uh le ceste leggendarie quelle che prima abbiamo rubato ad un avversario e sono qua ok va bene eh attenzione raga qui hanno già faietato brutalmente hanno probabilmente anche già aperto il bunker dei degli scagnozzi qua non è male come punto di atterraggio ok raga ecco la prima che non l'avevo vista che sta anche abbastanza centrale però tante volte non stanno sempre centrali eh diciamo che anzi spesso stanno anche abbastanza esterne che è la deagle beh di sicuro la prendo al posto del potere del fuoco adesso andiamo a cercare l'altra va sarebbe male una bella mitraglietta invece stavolta tutte e due centrali ragazzi proprio al centro del radar diciamo così molto buono lutarne due eh raga bello il cecco bello il cecco anche se torno a ripetere io avrei preferito una mitraglietta ma letteralmente in realtà io che lo sto tenendo a fare questo qui invece potrei fare così il problema sarebbero i colpi effettivamente eh che questi pesanti vanno via in mezzo secondo però nel dubbio per ora ce la giochiamo così ma ok raga c'è qualcuno con la macchina che si è fermato qua proprio dove è andato il bro sta proprio qua sotto o di là eccolo il bro e vabbè madonna santa ragazzi ma veramente cioè mi ha fatto più danni lui in mezzo secondo con che cosa o sta salto verde piuttosto che io che l'ho hitato con la deagle madonna raga mi aveva devastato distrutto eh mi faccio direttamente questa almeno mi fullo e infatti raga la deagle adesso la droppo la deagle è la mia arma preferita eh però in sta stagione sto davvero facendo fatica ad usarla quindi soprattutto quando dobbiamo tryhardare in ranked la droppo la lascio ok no raga vi giuro ero uh ah no è l'npc dietro c'è l'npc no raga ero commentissimo di riuscire a dittarlo ah ma sta proprio scappando regà eh è proprio cioè ha sentito la cecchinetta è scappata ed è quello col medaglione attenzione io non stavo neanche parlando perché stavo cercando questo col medaglione poi un certo punto l'ho visto lo volevo cecchinare l'avevo quasi per scontato di riuscire a prendere perché avevo visto dove si stava muovendo invece l'ho proprio missato ah regà preferirei le impulsi eh però già è il video dove atterro coi templi e non sto prendendo tutti gli altri poteri mitici almeno quello dell'aria quando lo trovo lo prendiamo oh no oh no oh no ma questo raga questo è quello di prima era quello che era venuto ahia raga ma questo è quello che era venuto prima il coso era questa la partita dove sono andato al molo giù si si era questa mmm e vabbè oppure con l'npc che ci si mette diventa un po' complicato ok potevo boxarlo in realtà ad un certo punto eh bellissimo no dai vabbè regà ma non è possibile che tutta sta gente mi stia cecchinando mentre utilizzo il potere oh cioè ma mi sto beccando una cecchinata a partita con sto potere ma davvero c'è così facile cecchinare la gente mentre usa sto potere che poi neanche a dire mi ha cecchinato nel momento in cui mi sono impicciato sono rimasto fermo ecc no 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 mi ha cecchinato nel momento in cui stavo già scattando oh ma no no raga questa la tu prende per forza la tu prende proprio per forza no non ho scelta allora cambiamo proprio no ragazzi c'è uno qua no bro no bro ti giù non ci posso credere No la banana Ok Eh raga non sono riuscito a riprendere Le cura bomba ma va bene così Va bene così poi stanno tutti col cieco Ovviamente quindi che ve lo dico a fa Che ve lo dico a fare Oh mamma mia spero si stiano Faitando con qualcun altro E io almeno posso respirare un pochino Mamma mia che partite ragazzi Che partite Ok raga c'è qualcuno qua che penso mi abbia visto In realtà si che mi ha visto io voglio Ugodo No Ma guardate che fortuna Oh Il potere eh vabbè Si No vabbè ragazzi c'è sto potere C'ha la calamita per i cecchini Come ha fatto a dittarmi Ma secondo me Il no scoop ha sparato Regà Ma palesemente ha sparato il no scoop Senza mirare Ma stai scherzando Cioè mezzo secondo si è esposto Io stavo correndo con sto coso E mi ha preso No Da così vicino poi col cecchino Che non è facile Manco più a uno fermo In quel momento Va bene Promemoria Dopo il video di oggi Non usare mai più Neanche il potere Dell'aria Che sto a Tre cecchinate Quattro cecchinate Mentre lo uso Non lo so Poi quello lì ovviamente Mi si è salvato con due di vita Perché quello ragazzi Palesemente si è salvato un due di vita Dopo che ha subito già una cecchinata Io che l'ho aiutato più di una volta E non oso immaginare Con quanta vita È rimasto È rimasto quello Oggi ragazzi Particolarmente male in tutto eh Dopo aver fatto L'atterro per un'ora Migliore forse di sempre L'altro giorno Con bananita Recuperatevi il video dell'altro giorno Che l'avete visto in pochissimi Tra l'altro Quella Quella atterro L'ultimo atterro per un'ora Prima di questo è andato malissimo È quello con bananita Ripeto Recuperatevelo Oggi stiamo facendo uno dei peggiori invece Non Eh vabbè Vabbè questo me lo so meritato io però eh No questo ha tutti i poteri Ovviamente Ovviamente adesso mi beccherò Una di quelle laserate Fuori di testa Ah va bene Ok Si stanno sparando Eh qua mi piacerebbe Entrare per lutare Ma Non credo sia Non credo sia il momento adatto Che raga in ste partite Come mi metto un attimo tranquillo Che riesco a rifullarmi Che riesco a trovare quello che mi serve Eccetera eccetera Bam Subito tutto rovinato Addios No un altro con il potere Non volevo Non volevo Che poi tra l'altro Non ho neanche deciso Se cambiare il pump o meno Raga Vabbè Qua come te fermi un attimo C'hai otto cecchini Pronti a mirarti Pazzesca sta cosa Davvero pazzesca sta cosa Come ti fermi un attimo C'hai otto cecchi Guarda 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 Incredibile Incredibile Ah questo mi sta proprio pushando Raga Altro che Oh qualcuno che gli spara Non lo so Se gli stanno sparando Ma a lui non gliene frega niente Lui pensa solo a me Lui pensa solo E soltanto a me Spero non abbia visto E mi sono venuto a mettere qua E invece si Ma quello è l'npc No dai Raga come No raga si è salvato col dash Si è salvato unicamente col dash L'npc Dio mio Questo si è salvato col dash Se no Stava nel mio box Lo demolivo Raga Ve lo giuro Me lo demolivo Me lo demolivo Ragazzi Mi sta Cioè raga Ma davvero Io voglio la metà Della vostra mira Non voglio la vostra mira A me basta la metà Voto che mi sa L'hanno mezzo laserato Ma io vorrei fare Almeno una kill No Non gli sta rompendo più le scatole Nessuno Non ci credo Comunque ragazzi Abbiamo superato l'ora eh Quindi questa è ufficialmente L'ultima partita Siamo in undici E io praticamente L'unico movement che ho È quello con cui mi stanno laserando Dall'inizio di questo video Raga se killavo questo Non dico che era fatta Ma veramente era Troppo importante Ok Non ci posso credere bro Bro va bene Vieni che c'hai Mo c'hai paura Che c'è C'hai paura Dopo che t'ho fatto eh Con una kill questo stava Push in endgame lui Solo con me fanno gli aggressivi Gli altri proprio Non gliene frega niente Pazzesco ragazzi Oggi quello che poteva andare storto È andato storto Io ho giocato male La sfiga ha giocato alla sua parte Veramente Veramente Pazzesco Abbiamo recuperato un pochino Siamo a meno un per cento Rispetto a quanto eravamo arrivati Perché se non sbaglio Eravamo arrivati al 16 Ma da adesso penso Che tutte le partite Saranno così eh Perché da quello che ho capito Elite campione Sta diventando una giungla Detto questo ragazzi Vabbè L'obiettivo era quello E l'abbiamo raggiunto Va benissimo così Vi ricordo il codice creatore GGY Sì non ti tutto grande Tutto attaccato E le cose oggetti di fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Per supportare Gli atterro per un'ora E fatemi sapere nei commenti Dove atterranno nel prossimo episodio Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzuali